Classica, unica, duratura, contemporanea. Classica, unica, duratura, contemporanea. Classica, unica, duratura, contemporanea. Grazie alla generosità di un gruppo di imprenditori locali, il San Bastiano è il primo ospedale in Italia a essersi dotato appunto di Watson, lo strumento informatico che aiuta a individuare le potenziali neoplasie. Ecco che la risonanza magnetica riesce, grazie alla caratterizzazione tessutale e all'ausilio di questo strumento, diciamo di calcolo informatico dell'indice di probabilità di tumore, ad arrivare ad una diagnosi che altra tecnologia non riesce. 102 i pazienti già esaminati nel 2015 con questa metodica innovativa che consente poi trattamenti più mirati. Soprattutto di poter cominciare a selezionare pazienti che richiederebbero una chirurgia da quelli che possano andare incontro a una semplice osservazione o in futuro, come dicevamo poco fa, di poter applicare delle tecniche che distruggono solo la sede tumorale senza distruggere il resto dell'organo, che è importante per la conservazione della continenza e della potenza sessuale. Un investimento di ben 120 mila euro che si è concretizzato attraverso l'associazione San Bassiano Onlus. Gli industriali artefici della donazione sono pronti a stanziare altri 200 mila euro per completare il progetto e portare la tecnologia tridimensionale in sala operatoria. Siamo dei concorrenti ma siamo anche amici, ci troviamo a cena e lavoriamo per il territorio chiaramente. Dobbiamo dare al territorio un po' di quel che abbiamo ricevuto perché è un territorio comunque ricco anche di persone per bene. Siamo alla cronaca, serio incidente sul lavoro questa mattina in un'azienda di pianezze. Un bidone è letteralmente esploso in faccia a un operaio ricoverato in ospedale per le ferite riportate. Stava tagliando con la fiamma ossidrica un bidone per l'olio che gli è esploso in faccia rischiando di sfigurarlo. Drama sfiorato poco dopo le 10 di questa mattina a pianezze nello stabilimento della Fredo & Codit di Vialdomoro che si occupa di servizi e impianti per la refrigerazione. Un operaio di 43 anni di 9 sale vista davvero brutta voleva scoperchiare un fusto con la lancia termica ma quando si è messo al lavoro una scintilla ha innescato la deflagrazione dovuta probabilmente ai vapori ancora presenti all'interno del cilindro. Il contenitore è scoppiato come una bomba proiettando un pezzo di lamiera sul viso del malcapitato. Il ferito è stato subito soccorso dai colleghi che hanno chiamato il 118 immediato l'arrivo di un'autoambulanza dal San Bassiano. Fortunatamente il 43enne non ha mai perso conoscenza. È stato trasportato in ospedale con un codice di media gravità. I medici gli hanno riscontrato traumi al volto e alla clavicola e una lesione alle mitoracee. Sul posto anche lo spisa del Lusse 3. Gli ispettori hanno esaminato le attrezzature e sentito il responsabile dell'azienda per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. I carabinieri di Romano hanno arrestato un 28enne di Rossano in un garage che coltivava oltre 80 piante di marijuana alte un metro e mezzo. I carabinieri lo conoscevano già per il suo vizietto di coltivatore spacciatore per il quale era finito nei guai in passato e bastato tenerlo d'occhio una volta avuta la sensazione che avesse ripreso l'attività e il sospetto ha trovato conferma. Arrestato dai militari di Romano Dezzerino il 28enne Cristian Sartori di Rossano, Veneto. Dopo averlo osservato e pedinato per giorni i militari hanno smesso a segno un blitz in un garage a Romano nelle disponibilità del giovane. Qui Sartori aveva allestito due serie artigianali per la coltivazione della marijuana. All'interno crescevano rigogliose oltre 80 piante, 82 per la precisione, alte fra i 70 centimetri e il metro e mezzo. Le serre erano perfettamente allestite con tanto di impianto di ariazione, luce a intensificazione, specifici fertilizzanti e per non rischiare errori un manuale con le istruzioni del perfetto coltivatore. Nel corso della perquisizione sono stati fuori anche 300 euro, probabile provento dell'illecita attività di spaccio. Droga e contante sono stati sequestrati, il 28enne è arrestato e trasferito in carcere a Vicenza. Le accuse coltivazione e spaccio. Un vasto incendio ha interessato questo pomeriggio l'area sopra San Michele a Bassano, bruciati alcuni ettari di bosco in località Fagare Alto a Varrovina. Le operazioni di spegnimento hanno impegnato per 5 ore due squadre dei vigili del fuoco di Bassano, i volontari di tieni e la protezione civile. Ancora sconosciute le cause del rogo, che sembra sia partito da una zona in cui dei privati stavano potando degli ulivi. Il terreno secco ha favorito il propagarsi delle fiamme. Domani a Venezia l'inaugurazione dell'anno giudiziario, invitato anche il sindaco di Bassano Poletto, che annuncia ribadirò l'importanza di creare le tribunali della Pedemontana. Metterò in evidenza il fatto che l'apertura dell'ottavo tribunale del Veneto non avrà ricadute positive solo per il territorio bassanese, ma per tutta la regione, oggi complessivamente gravata dal peso che la chiusura di Bassano ha comportato. È la promessa del sindaco Riccardo Poletto che domani interverrà a Venezia all'inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Corte d'Appello. Il sindaco annuncerà anche l'organizzazione a breve di un convegno ad Asolo per approfondire ulteriormente i vantaggi della proposta. Nel corso della cerimonia più significativa per l'amministrazione della giustizia, in Veneto, Poletto interverrà a nome del Comitato per l'istituzione del nuovo tribunale della Pedemontana, per ribadire ancora una volta l'importanza di attivare quanto prima l'ottavo tribunale regionale. Mi ha fatto molto piacere l'invito del Presidente della Corte d'Appello, spiega Poletto, sarò senz'altro presente per cogliere questa occasione in un momento così importante, con una platea così autorevole per ribadire le ragioni del Comitato. Ricorderò gli importanti passi compiuti, le attestazioni finora ricevute, l'adesione formale della giunta e del Consiglio regionale di tre province, di oltre 50 consigli comunali, delle categorie economiche, degli ordini professionali, delle aree coinvolte. Supporteremo con forza le richieste dei sindaci per il raddoppio della linea ferroviaria da Maerne, Noale fino a Bassano e presenteremo una interrogazione per chiedere alla giunta di attivarsi a riguardo. Così i consiglieri tosiani, Casali, Negro, Bassi e Conte intervengono sulle richieste dei sindaci sul tragitto più trafficato d'Italia a binario unico, purtroppo in questo caso un record negativo. L'asse ferroviario Venezia-Bassano deve rientrare tra le priorità della regione, ribadiscono gli esponenti di fare. A Romano Dezzelino ha approvato il piano triennale delle opere pubbliche, programmati interventi per oltre 3 milioni di euro. Precedenza a scuole e viabilità. Anche per il 2016 la Comune di Romano non modifica la sua scaletta di priorità. Ieri sera in consiglio il via libera al piano delle opere pubbliche. Proseguirà la messa a norma dal punto di vista sismico delle scuole elementari di San Giacomo e delle scuole elementari di Sacro Cuore per un importo complessivo di 1 milione e 250 mila euro. A questo poi si va ad aggiungere un altro nostro intervento che abbiamo sentito da molto e che si innesta su un piano strategico di viabilità dolce, viabilità alternativa e quindi il collegamento tra la strada Carlessi di Romano, che ricordo è una strada provinciale, e la Fornace e quindi con l'attraversamento della Roggia Cornara per la quale abbiamo già avuto contatti, proprio lunedì mi sono incontrato con il consorzio che ci ha dato il via libera a questa opera e che risolve un problema di mobilità, un punto nero della viabilità a Romano. Il prossimo triennio prevede in totale lavori per oltre 3 milioni di euro, asfaltature, piste ciclabili, interventi nei cimiteri e il centro di urno per anziani promesso dall'amministrazione. Stiamo rivalutando e rivedendo il progetto per le nuove norme di sismica che sono entrate e che stanno entrando in vigore e speriamo nel 2017 di poter dare l'avvio ai lavori, un importo cospicuo, siamo sopra il milione e centomila euro. Prende corpo Bassano Excellence, il progetto di riqualificazione e rilancio degli spazi commerciali sfitti promosso dall'amministrazione comunale con Ascome e le categorie economiche. L'azione è finanziata nell'ambito del bando regionale Bassano nel Cuore. Nei giorni scorsi è stata attivata la prima fase del progetto con la pulizia e il recupero di negozi sfitti utilizzati ora come veicolo di promozione del sistema museale attraverso delle gigantografie posizionate all'interno delle vetrine. Mentre continua la caccia al colpevole, il comune di Cassola assicura che la colonna napoleonica di via Crocerona, abbattuta nei giorni scorsi, tornerà presto al suo posto. Continua per ora senza esito la caccia al responsabile con un paio di settimane fa abbattuto la storica colonna tra via Crocerona e via Marzabotto a Cassola. Purtroppo non è la prima volta ma in questo caso il danno è stato decisamente pesante. Ci sono alcuni testimoni che hanno riferito dell'intervento di un carro attrezzi che ha aiutato l'incivile automobilista e si stanno passando al settaccio le carrozzerie della zona. Intanto il sindaco si sta muovendo in prima persona per far riparare la colonna di epoca napoleonica, così da far tornare quanto prima al suo posto il manufatto, ma questa volta opportunamente protetto. Siccome si è fatto già avanti il ristoratore del precedente, dopo il precedente incidente, pensiamo di convocarlo per capire se in questo momento la situazione è identica all'altra volta, cioè la rottura è avvenuta esattamente nelle stesse fratture che erano accadute la volta precedente o se è più complesso valuteremo l'importo e poi affideremo a questo o ad altre persone, ad altre diete specializzate questo lavoro. A questo punto, visto che è la seconda volta, metteremo una barriera a protezione, chiaramente con le cautelle necessarie, dovute anche alle regole, dovute al codice stradale, ma delle barriere di protezione almeno contro impatti di piccolo rilievo come auto, certamente un camion se va addosso anche alla protezione che metteremo a batterà tutto, ma almeno questo dovremmo farlo. Dopo il grande successo del concerto del 19 gennaio torna ad esibirsi la filarmonica bassanese. Due gli appuntamenti in programma, sempre sotto la direzione del maestro Davide Paoletto. Domani sera dalle 21 e domenica pomeriggio dalle 17. I concerti si terranno al Teatro Remondini. L'appuntamento sarà ripreso dalle nostre telecamere e andrà in onda su TVA in prima serata martedì a partire dalle 21. Adesso una breve pausa e poi la pagina sportiva. Sport, calcio, prime parole per il nuovo centravanti del Bassano, il veneziano Matteo Momente che crede nelle ambizioni d'alta classifica dei giallorossi. Ascoltiamolo. Matteo Momente arriva in prestito a Bassano però con una gran voglia di metterti in gioco, c'è il centravanti di peso che serve a questa squadra e soprattutto c'è la prospettiva di giocare subito per obiettivi importanti. Sì, sono contento di essere qui. So di entrare in un gruppo importante che negli ultimi anni ha sempre fatto bene. Sono sicuro che anche quest'anno lotteremo fino in fondo per toglierci soddisfazioni. Tu hai fatto gol in B e in C, tantissimi con l'Albinoleffe. Domenica c'è proprio l'Albinoleffe, bisogna lasciare da parte il cuore. Sì, a Bergamo ho tanti bei ricordi però adesso resto la maglia del Bassano e spero che già la domenica di far bene, di contribuire alla squadra e di aiutarla a portare a casa i punti importanti. Le tue caratteristiche sono centravanti d'area ma sai fare sia la prima che la seconda punta e ti fai valere sia nel gioco aereo che quello a palaterra. Sì, negli anni anche per le caratteristiche dei compagni che ho avuto mi sono adattato a fare sì la prima e la seconda punta però sono a disposizione del mister poi queste sono scelte che spetteranno a lui. Al volo l'ultima cosa, Cittadella lanciatissimo, Alessandria anche però Bassano è lì, il campionato è lungo se la può giocare. Vabbè chiaro, siamo a metà, ci siamo anche noi e vogliamo lottare fino in fondo per obiettivi importanti. Nell'hockey su pista, proibitivo impegno domani sera per il Bassano sulla pista del Forte di Marmi, primo in classifica e campione in carica. I giallorossi dovranno fare a meno dell'argentino García, ancora alle prese con una fastidiosa lombalgia. Diverse decine di tifosi al seguito della squadra in Toscana. Era questa la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, alle prossime edizioni, arrivederci. Classica, unica, duratura, contemporanea. Classica, unica, duratura, contemporanea. Grazie a tutti.